Imparare a creare gioielli fai-da-te è sicuramente un modo creativo per trascorrere il tempo e per realizzare oggetti da regalare o da vendere. Ecco alcune idee creative da cui trarre spunto. Creare dei gioielli fai-da-te non è difficile, come sembra. Ciò che serve è tanta fantasia, una buona manualità e la capacità di immaginare un prodotto ancora prima di procedere alla sua ideazione. Sebbene sul web ci siano tante idee da cui trarre spunto, L'originalità è certamente la chiave che fa la differenza e che porta alla distinzione tra un normale gioiello ed uno da considerarsi speciale. In ogni caso, per capire se si è portati, la prima cosa da fare è mettersi all'opera. Scopriamo quindi come creare della bigiotteria fai-da-te in modo semplice. La prima cosa da fare per iniziare è quella di procurarsi il materiale che serve per dar vita ai vari gioielli. Ci sono negozi specializzati che vendono dei kit da cui partire per acquisire dimestichezza e che possono rivelarsi utili per dare un'idea di ciò che serve per iniziare. In alternativa, si può partire acquistando dei fili, delle perline, una forbice adatta per tagliare, delle chiusure, della colla e delle viti per saldare il tutto. Oltre alle perline, si possono acquistare pietre, pendenti da inserire in una collana e tanti altri piccoli accessori, che con un po' di fantasia possono dar vita a creazioni davvero particolari. Ciò che conta è iniziare e farsi ispirare da tutto ciò che si ha intorno. Saper realizzare dei bijou da indossare, regalare o vendere. Significa anche avere una buona capacità di realizzare qualcosa che attiri l'attenzione. Per farlo, è sempre possibile fare un giro sul web o trarre spunto dalle vetrine delle gioiellerie, dalle quali si possono apprendere alcuni tipi di composizioni. Andando ad idee particolari, si possono usare fiori di stoffa, ciondoli particolari e cristalli da incastonare in montanti, che si possono acquistare già pronti o creare da sé. Anche saper lavorare il fimo può dar vita a ciondoli da inserire nelle collane.